attraverso tullia e gian cerchio ifior attraverso tullia e gian genova 1983 moti uomo così tormentato lascia che il tormento della tua mente parte materiali del tuo corpo materiale ma strumento del tuo corpo spirituale venga stemperato dal tuo sentire perché solo se riuscirai in questo diventerai finalmente qualcosa di più di un nome un'etichetta un groviglio di contrasti tormentosi uomo così deluso non rendere inutile la tua delusione privandola dei perché che devi risolvere negandole il riscatto della tua comprensione impedendo che essa assolva i suoi compiti dentro di te come dentro ad ogni uomo accoglila come una sorella che ti indica dove è stato il perché che l'ha generata solo così uomo deluso potrai cambiarle nome e chiamarla sorella che mi mostri quale è la mia realtà uomo così affannato da rincorrere una meta indefinita volutamente indefinita affinché tu possa correre senza un attimo di tregua con il fiato mozzo che ti intorpidisce la mente impedendoti di soffermarti su mille altre mete che superi odignori relegandole nel limbo delle cose belle ma inutili frena i tuoi passi rallenta il tuo ansito e scoprirai con gioia che quanto tu vai cercando è dentro di te e che la tua corsa è stata inutile poiché sei tu la meta quella meta che inseguivi e che non riconoscevi perché ti rifiutavi di conoscere te stesso